Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova batteria di domande. Cominciamo subito con la prima. Dall'esperimento sulla strange situation è emerso che, nello stile di attaccamento insicuro e evitante, il bambino reagisce con apparente indifferenza alla separazione dalla figura di attaccamento. Seconda domanda. Cosa succede durante la fase di latenza nello sviluppo psicosessuale per Freud? La libido è dormiente. Terza domanda. La didattica per progetti è stata introdotta da... Kipatrick. Quarta domanda. I processi metacognitivi sono favoriti da... Dall'interazione sociale. Quinta domanda. In inglese... Bene ragazzi, con questa domanda in inglese per oggi è finito. Io vi saluto. lotta doppia spazio. Quando faccio a digito. Ho... Ho... Grazie a tutti.